Musica Muore cadendo in un dirupo un uomo di 71 anni e morto nei boschi di Villa Colemandina precipitando per oltre 40 metri mentre raccoglieva la legna 50 anni di attività per i lucchesi nel mondo l'associazione festeggia in questo 2018 il primo mezzo secolo di attività presentato il ricco programma di eventi un lascito salva i poveri vecchi importante eredità dalla famiglia Pieraccini che porta nelle casse della struttura dedicata agli anziani un immobile di prestigio e 300 quadri di pittori di fama conciliare studio e scuola con l'Accademia dello Sport approda anche nella nostra provincia il progetto formativo dedicato ai giovani che svolgono attività sportiva a livello agonistico e lo sport, il calcio, i freddi numeri della crisi la lucchese ha chiuso male la prima parte del campionato con una serie di sconfitte che hanno complicato statistiche e classifica sabato amichevole con il Carpi basket turno favorevole a Jesm Lemura le Biancorosse ospitano Torino nella domenica del Basket Day Ben trovati per questa nuova edizione del TG Noi dunque come avete sentito nei titoli apriamo il nostro telegiornale con la cronaca con una tragedia avvenuta nei boschi di Villa Colemandina Un uomo di 71 anni è morto venerdì mattina nei boschi di Villa Colemandina in località Canigiano vicino al ponte Vergai precipitando in un dirupo mentre raccoglieva della legna la tragedia è avvenuta in questo luogo intorno alle 9 secondo una prima ricostruzione al vaglio dei Carabinieri il 71enne è caduto dopo essere stato urtato da un albero che stava tagliando la caduta dell'uomo si è interrotta dopo una quarantina di metri in un canale Umberto Chiari si trovava nel bosco in compagnia del fratello ed è stato proprio lui a chiamare i soccorsi purtroppo però per l'uomo Scapolo, molto conosciuto a Villa Colemandina non c'era più niente da fare sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castiglione Garfagnana che stanno conducendo le indagini di rito il recupero del corpo è stato molto difficoltoso a causa del luogo impervio per questo sono giunti i vigili del fuoco che hanno lavorato quasi tre ore per arrivare al pensionato ed effettuare il suo recupero i vigili del fuoco erano intervenuti anche nella notte fra giovedì e venerdì nei boschi di Bagni di Lucca a Cune per recuperare una donna che si era perduta nei boschi mentre stava ritornando a casa dopo che l'auto si era forata disorientata ha perso appunto l'orientamento addirittura è caduta in un piccolo dirupo per circa 20 metri è riuscita comunque a chiamare con il cellulare i carabinieri e poi c'è stato l'intervento dei vigili del fuoco la signora è stata ritrovata in buone condizioni alle 5 e 40 di questo venerdì mattina parliamo adesso dei Lucchesi nel mondo questa ovviamente molto conosciuta associazione che festeggia i 50 anni di attività 50 anni fa per la precisione l'11 settembre 1968 nasceva l'associazione Lucchesi nel mondo fondata da un gruppo di privati cittadini ed enti con l'intento di costruire un ponte di collegamento tra la Lucchesia e le comunità di suoi conterranei all'estero per celebrare il mezzo secolo di attività la presidente dell'associazione Ilaria del Bianco in una conferenza stampa a Palazzo Ducale ha annunciato che è in fase di preparazione un ricco programma di iniziative che proseguiranno per tutto l'anno il 2018 sarà un anno di festeggiamenti su tutto il territorio provinciale ed insieme alle più grandi ed importanti istituzioni sia pubbliche, i vari comuni e le loro organizzazioni sia con i soggetti che producono cultura sul nostro territorio avremo anche alcune manifestazioni all'estero molto importanti dove come sempre uniremo la visita alle nostre comunità quindi la vicinanza ai nostri conterranei all'estero che mai deve mancare al momento promozionale del nostro territorio e delle sue eccellenze in quest'ottica in cui noi vogliamo anche reinterpretare l'associazione come un motore che si affianca agli altri già presenti per lo sviluppo turistico e anche economico del nostro territorio provinciale Tra le iniziative su cui sono state fatte alcune anticipazioni ci sono la mostra dei gelatai nel mondo alcuni eventi realizzati in sinergia con la Fondazione Carnevale il concerto pucciniano in collaborazione con il Teatro del Giglio e la cerimonia celebrativa dell'anniversario che si svolgerà il 15 settembre Ricorderete nei giorni scorsi avevamo parlato delle proteste della mobilitazione dei vigili del fuoco per i pasti precotti ebbene a Firenze è stato firmato l'accordo con la ditta dell'appalto ristorazione nelle caserme dei vigili della Toscana che prevede il reintegro delle lavoratrici che fino al 31 dicembre cucinavano i pasti nei distaccamenti anche in provincia di Lucca dunque è prevista la riassunzione di queste lavoratrici e dunque niente più pasti preconfezionati e il ritorno della cucina espressa anche nei distaccamenti di Petrasanta, Viareggio e Castelnuovo Iniziamo adesso da Gallicano un breve viaggio nei luoghi di cultura dimenticati in provincia di Lucca che hanno beneficiato dei finanziamenti del progetto Governo Bellezza Prima tappa al Duomo di Gallicano dove si trova il portale chiuso dell'Aringo Da questo piccolo portale del Duomo di Gallicano chiuso da alcuni secoli si decidevano le sorti del paese Qui si arringava la folla su temi di fondamentale importanza e per questo lo spazio sottostante prende il nome di Arringo o Aringo A Gallicano da alcuni anni è nata un'associazione culturale che prende proprio il nome di Aringo e che pubblica un giornale trimestrale Due anni fa l'associazione rispose all'iniziativa del Governo Renzi Governo Chioccio la Bellezza segnalando la necessità di intervenire per salvare il monumentale Duomo di Gallicano Presentarono un progetto e sensibilizzarono i cittadini ma mai avrebbero pensato che la loro richiesta venisse accolta e finanziata Abbiamo aderito a questa iniziativa del Comitato perché ritenevamo il Duomo di San Jacopo il monumento simbolo del paese come Duomo e poi volendo anche proprio per l'Aringo perché la nostra associazione culturale è l'Aringo e il nome viene proprio da questo spazio quindi per noi è una gioia infinita aver potuto contribuire in qualche modo ad avere questo finanziamento Il Duomo, oltre ad essere il centro di raccolta e di preghiera per cattolici rappresenta un pilastro per la storia di questa comunità È stato, io non so come definirlo un colpo di fortuna, un colpo di provvidenza divina ma che ci permetterà di lavorare e portare avanti un progetto quasi alla completezza Ecco gli interventi che verranno fatti grazie al finanziamento di 285.000 euro concesso dal governo Uno dei primi interventi è da fare direttamente sul campanile poi cosa da non sottovalutare è il restauro della pala robbiana all'interno del Duomo da concordare con la superintendenza dei beni culturali inoltre da fare anche l'impianto audio da rimettere in sesto e elettrico anche una cosa da fare in maniera abbastanza urgente queste direi che sono le cose principali da fare È stato ufficializzato l'accordo regione-governo che ha portato in Toscana 170 milioni di euro per investimenti confermati 14 milioni e mezzo per il ponte sul Serchio e 5 milioni per la progettazione del secondo lotto degli assi viari Ora a Viareggio una speciale donazione salva l'istituto dei poveri vecchi Per la casa di riposo Sacro Cuore di Viareggio centro residenziale per anziani arriva un generoso lascito dalla famiglia Pieraccini che porta nelle casse della struttura un immobile di prestigio a Città Giardino e almeno 300 quadri d'autore tra questi Salvatore Dalì Sironi De Chirico e altri artisti di grande fama una disponibilità importante di risorse che arriva ad hoc per l'istituto Poveri Vecchi di Viareggio che anche nel 2017 chiuderà il bilancio in passivo di circa 140 mila euro Una grandissima notizia per la nostra casa perché come sapete la città di Viareggio lo sa abbiamo sempre necessità i nostri bilanci sono sempre in passivo continuamente Il lascito Pieraccini è stato perfezionato in queste ore nello studio Viareggio del notaio Monaco Di questi tempi è difficile trovare benefattori che elargiscano somme così rilevanti spiega il presidente dell'istituto Giannecchini che ha preso della donazione solo all'apertura del testamento della vedova del senatore Pieraccini La prima notizia che io l'ho avuta l'ho avuta dal notaio ho già convocato il consiglio di amministrazione dell'associazione per sabato prossimo che dovremmo fare l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e decideremo che cosa fare perché è certo che il patrimonio deve essere realizzato i quadri non possiamo darli a mangiare i vecchietti fra parentesi quindi dobbiamo realizzare anche perché ho letto che ci sono diversi lasciti che dobbiamo liquidare anzi dovrà liquidare l'esecutore testamentario che è il professor Corti Federico Ora parliamo di formazione degli studenti in particolare degli sportivi perché approda anche a Lucca l'Accademia dello Sport conciliare l'attività sportiva agonistica con lo studio una missione quasi impossibile per molti giovani finora a Lucca dal prossimo anno scolastico approda infatti l'Accademia Toscana dello Sport progetto formativo dedicato ai giovani atleti a promuoverlo Fisi Comitato Appennino Toscano Fondazione Campus Liceo Sportivo Fermi in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale il Comune e la Federalberghi di Forte dei Marmi il format ha l'obiettivo di evitare che quei ragazzi che svolgono attività sportiva a livello agonistico stretti nella morsa dello studio degli allenamenti e delle gare abbandonino la scuola come invece accade frequentemente Oggi grazie all'aspetto digitale possiamo avvicinare tantissimo le due cose facendole diventare un'unica cosa i ragazzi che anche sono distanti che hanno degli impegni sportivi possono tranquillamente avere la possibilità di seguire delle lezioni a distanza come si fa normalmente per l'Università Telematica e quindi si sta tentando in tutti i modi di portare questo mondo anche nell'ambito della scuola di secondo grado quindi i ragazzi potrebbero avere questa grossa possibilità di uscire a seguire delle lezioni a distanza e poi fare delle lezioni intensive durante i periodi di non impegno sportivo il Liceo Fermi Giorgi offrirà due percorsi educativi ad hoc liceo scientifico e istituto professionale il programma prevede la possibilità per gli studenti di accedere a una piattaforma online attraverso cui gli insegnanti potranno monitorare lezioni e questionari durante la permanenza degli atleti presso i rispettivi club di appartenenza grazie a Fondazione Campus i giovani sportivi potranno seguire il proprio percorso formativo anche dopo il diploma con corsi di laurea e master e ora come ogni fine settimana l'editoriale curato da Sergio Talenti l'ancora la prevendita dei biglietti cumulativi del Cannevale di Viareggio che si apre il 27 di questo mese ha raggiunto la cifra di 13 mila biglietti venduti una cifra mai raggiunta nelle precedenti edizioni un segno questo di ottima salute per il Cannevale più longevo d'Italia ma non solo c'è qualcosa di più intanto le iniziative prese negli altri mesi dell'anno hanno aperto al grande pubblico quello straordinario spazio della cittadella dove si costruiscono i grandi carri e questo fa anche capire come la fondazione punti ad un sistema Cannevale che vada ben oltre i cinque corsi che si svolgono appunto a gennaio-febbraio e in questo senso il segnale più forte è arrivato proprio alcune settimane fa poco prima di Natale quando è stato inaugurato il Museo del Carnevale un grande museo che espone reperti di una storia secolare modelli, maschere, colonne sonore manifesti che fanno capire come Viareggio ha saputo far dialogare il sapere dei suoi calafati che costruivano velieri in Darsena con l'arte dei suoi carristi Pierrot fu la prima maschera infatti a muovere gli occhi grazie a un meccanico della Darsena l'incontro fra arte e industria non poteva essere più felice e la sua creatività più rara Questa sera alle 21 su Noi TV torna la trasmissione Dido ospiti consiglieri regionali Stefano Baccelli del PD Gabriele Bianchi del Movimento 5 Stelle ed Elisa Montemagni della Lega Nord parleremo di regione con un occhio rivolto alle elezioni e al Via a proposito di politica su Noi TV una serie di interviste in vista delle elezioni politiche del 4 marzo si parte domani sabato 13 gennaio alle ore 20 con Andrea Marcucci senatore del Partito Democratico è tutto per la prima parte dell'ETG adesso una breve pausa e poi la linea la pagina sportiva